Il 20 aprile è stato un giorno carico di aspettative ma anche di insuccessi, ma la domanda che ci poniamo tutti è E non Musk riuscirà a superare tutti gli ostacoli e a far partire con successo Starship? Beh, la risposta sta per essere svelata, ma prima sigla! Ciao, io sono Luca e sono YouTube e racconto una storia facile e veloce, quindi se sei interessato a questo bellissimo mondo ti consiglio di iscriverti al canale. Il primo lancio di Starship è avvenuto il 20 aprile del 2023 e tre minuti dopo dal decollo è esploso e quindi Elon Musk ha perso in pochissimi secondi molti milioni di euro dalla sua tasca. Ma come mai Elon Musk è la persona che piace rischiare moltissimo, anche a costo di perdere molti soldi, non ha ancora fatto decollare il secondo lancio di Starship? Beh, lui in teoria sarebbe già pronto da almeno un mese, il problema è che dopo il 20 aprile il FAA, cioè il Federal, Aviation Administration ha dovuto aprire un'indagine e quindi vedere tutti i possibili rischi. Il 28 settembre il FAA ha mostrato le sue analisi e in sostanza dice che devono sistemare ben 63 errori fra aggiornamenti hardware e procedure di sicurezza. Successivamente l'FWS, cioè il Fish and Wildlife Service, che sarebbe la salvaguarda dell'ambiente, ha continuato le indagini. La UFS il 19 ottobre ha controllato il pad di lancio. Il pad di lancio sarebbe la zona e il luogo dove il razzo deve partire e deve rispettare due caratteristiche. Il primo è che quando il razzo si inalza non deve portare con sé grossi nubi di polveri e detriti. La seconda è che con lo sversamento di così tanta acqua non deve creare danni all'ambiente. Ad oggi il FAA non ha ancora dato l'ok, ma come mai? Beh, semplicemente perché la FAA ha terminato solo la prima parte dei controlli, cioè la Safety Review, che sarebbe quella parte in cui si guarda quanto impatta sulla salute pubblica. Ma l'Environment Review, cioè quanto impatta sull'ambiente, il razzo non è ancora stata conclusa. Ma ora iniziamo con la missione vera e propria. Iniziamo con il razzo che decolla nel Boca Chica in Texas. Poi si inizia con la separazione degli stadi e dopo 2 minuti e 41 secondi dal decollo si stacca l'hot standing, che è una parte nuova del razzo. Quando si stacca questa parte vuol dire che abbiamo superato il Max Q, che è un segmento programmato da parte dei motori del Super Heavy. Tutta questa fase si chiama MECO. Precisamente il raggio si divide in due, in Super Heavy Booster 9 e in Starship Ship 25. Il Super Heavy Booster 9 dovrà atterrare o meglio ammarare nel Golfo del Messico in meno di 7 minuti dal lancio. Invece lo Starship Ship 25 dovrà andare verso le Hawaii e ci metterà un'ora e mezza. Non farà un volo orbitale, ma raggiungerà una velocità tale da permettere di eseguire tutti i test sulla struttura e sulle parti coinvolte nelle varie fasi. Purtroppo però nessuna delle due parti del razzo verrà recuperato. E voi cosa ne pensate? Pensate che sia in tutto una fatica sprecata? Oppure che possa davvero essere un razzo rivoluzionario? Scrivetelo nei commenti. Per oggi il video è finito ma noi ci vedremo sempre qui su questo canale con un nuovissimo video. Ciao!